Terzo pezzo, I capelli lunghi, che è la canzone che ancora adesso mi ha fatto conoscere, insomma, una delle prime canzoni di protesta, sempre calabrese mia e di calabrese. Ecco, questa canzone è nota nella stereografia perché è diventata appunto facciata B, B che doveva essere facciata A, perché al tempo alla Rai censuravano le canzoni. E poi, pensate, c'era una commissione apposita da Roma e quella Roma da Milano si mandavano in diretta, avevano una linea a bassa frequenza e loro sentivano le canzoni, pensate, e si diceva questo va bene, questo non va bene. Io avevo participato a giochi in famiglia, buongiorno, e il pezzo era già editato. La frase incriminata era questa, vergognatevi prima di quell'uomo seduto sui gradini di una chiesa, mendicante per fame e poi rivette di me, perché è stata censurata. Pensate oggi, cioè, che cosa avevano detto? I capelli lunghi. I capelli lunghi. I capelli lunghi. E poi, per te, indosso i calzoni stretti, per te a metto un istituto a metto in cittadino, di questo mondo. E va bene, prendete di me, ma non vedete il conto, però, che è il malanno più grave che il mondo, non lo porto al gonzaio con me, vergognatevi prima di quell'uomo, sopra i calabini di una chiesa, mendicante per fame e poi rivette di me. E poi, per te, indosso i calzoni stretti, per te a metto un istituto a metto in cittadino, di questo mondo. Se la gente che vedeva di me, e mi da pure il mio male non lo faccio, che mi tregano magari un pazzo, che è capitata per la città. E poi, per te, indosso i calzoni stretti, per te a metto in cittadino, di questo mondo. che diventano davanti che, indos Terre, Figge tutte, la gente che, radiaisedlife diversi nostri i al ergo半re, ci spanto our maximalistico. Grazie ansi, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.